Carico al visti ed eccoci un altro test tecnico prova verità per il Segway Mini spettacolare prodotto tra una decina di giorni in vendita in Italia e eccoci la nostra esperienza nel fuoristrada risulta vincente innanzitutto così lo vedete anche la batteria stagna 4 brugole di fissaggio dalla batteria alla scocca rendono perfettamente stagna un prodotto fantastico e abbiamo detto ma dalla nostra esperienza signori forare per quanto improbabile è sempre possibile è vero che giriamo in città a marciapiedi però vi dirò parchetti non è che il prodottino qua vada solo sul suo asfalto il prodottino qua va di brutto, sterrati, sterratini nulla di impegnativa non pensate di fare percorsi di un quadro però lui nei parchi va abbiamo detto cazzarola cosa vincente segue i mini tubeless e se si fora che si fa si torna a casa con il Segway anziché usarlo a mano come una varigetta perché si è forato assolutamente no quindi eccovi qua derivazione dei quad, iphone, antiforatura, gel non si indurisce resta sempre gel questo prodotto signori resta sempre gel quindi è fondamentale non rovina niente e ovviamente la sua durata è la durata del copertone quando la gomma è finita è da buttare e automaticamente il prodotto che avete inserito all'interno viene buttato comunque adesso questa vale per una gomma di un quad quindi su 2.000 così di questa, cioè, vedetevi conto della differenza non so quanto ne metteremo ma pensiamo di metterne un quarto per ogni fuota e pensiamo di metterne anche molto in eccesso forse sarebbe meglio un sesto lo rigonfiamo, lo preveremo e in modo da essere sicuri che in caso prendiamo il chiodino bastardo il prodotto non si sgonfi, non perda più di tanta pressione e l'utente possa continuare ad utilizzarlo senza averla problematica, raggiungerla poi in casa e ovviamente riparare la foratura con il classico vermone da fuoristrada e avere la piena sicurezza di rientrare da un percorso al parco, fuoristrada, su sterrato anche con vetri eccetera, senza davvero avere problemi signori, dal ferro, dalla squadra corsa quaddisti.it una elaborazione per il Segway Mini con pneumatici tubeless un saluto, dal ferro